È il sequestro più importante degli ultimi 25 anni in termini quantitativi eseguito dalle fiamme gialle nella provincia di Pesore e Urbino. Dopo un'attività di osservazione e controllo, la Guardia di Finanza di Fano ha sequestrato 546 kg di sigarette di contrabbando e denunciato due persone. In particolare, l'attenzione dei militari è stata attirata nella zona industriale da movimenti sospetti in prossimità di un capannone. È stato così che sono entrati nel deposito, che peraltro risultava in stato di semiabbandono e privo di energia elettrica. Poi hanno perquisito un furgone custodito all'interno dei locali, che una volta aperto ha mostrato il suo prezioso carico. Le sigarette avevano il marchio GIM, venduto generalmente nei paesi anglosassoni. L'intero carico, una volta emesso nel commercio illegale al dettaglio, avrebbe fruttato oltre 320 mila euro, sequestrato anche l'autocarro dal valore commerciale di circa 30 mila. I due responsabili, un fanese e un soggetto originario e residente nella provincia di Brindisi, rispettivamente locatario del capannone e utilizzatore del mezzo, sono stati denunciati per il reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri alla Procura della Repubblica al Tribunale di Pesaro.